Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day. Un pari, e ha domandato a lui la sua che ha fatto anche lui, c'è molto che aveva di fatto a tirare su ben, su figli, e io gli ho detto, chiamiamo, io l'ho fatto con voi, tu hai insegnato a vivere tutto il ben che l'ha attorno a sé, tutto il bielo. E hai fatto le sorelle, po' bene, tu hai insegnato a ascoltare e tenere a mente le cose che lo fanno diventare grandi. O hai fatto le mani, tu hai insegnato a chiarire e a lavorare. O hai fatto anche il cuore, l'anime, tu hai insegnato a vivere bene, perché il po' di essere contento lui e fa contento gli altri. Buona giornata e buona vita!